Facciamo un applauso a Rosario Savarese e Pietro Cimarruta di Unitiva, anche loro sponsor degli UD Days Italia, nonché storici, collaboratori, vecchi, no vecchi storici, perché vecchio poi è brutto, già rispetto alle foto che abbiamo fatto vedere all'inizio abbiamo i capelli bianchi, la barba bianca, va bene, con Unitiva e Pia Sain. Un applauso ragazzi. Grazie, grazie. Allora innanzitutto grazie Andrea per l'introduzione, ma soprattutto grazie per aver organizzato questo magnifico evento, come ogni anno ti confermi un super presidente. Grazie a tutti voi per aver preso parte a questi UD Days, siamo alla decima edizione, un'edizione per noi gli storici importante, perché dieci anni fa, nel 2014, è successa una cosa molto importante. E quindi io anche per contestualizzare un po' oltre a presentarvi Unitiva vorrei anche darvi un'idea di quello che è accaduto in questi dieci anni. Ma prima partiamo con una velocissima presentazione di Unitiva. Unitiva è Odoo Gold Partner, è una società che ha come core business, ha sempre avuto come core business lo sviluppo software. Da un po' di anni abbiamo esteso le nostre competenze anche ad aspetti un po' più consulenziali, quindi ci siamo spinti fino a analisi di processi, abbiamo supportato progetti abbastanza importanti, enterprise di digitalizzazione e di trasferimento tecnologico, sia in ambito corporate, quindi per aziende private di medie e grandi dimensioni, che per enti pubblici, anche pubblica amministrazione centrale. Unitiva oggi è un'azienda che conta circa 40 persone, con un nutrito e molto strong gruppo di odors che mi stanno accompagnando in questo percorso, anche molto giovani, Pietro è la testimonianza, e quindi stiamo cercando sempre di introdurre in questo mondo tanti ragazzi che stanno incominciando a riconoscere in questi strumenti anche un'opportunità per la loro crescita personale e professionale. Io appunto, come vi ho detto prima, volevo raccontarvi velocissimamente questi dieci anni, ma semplicemente per dirvi da che cosa siamo partiti. E qua non a caso il titolo è Localizzazione Italiana, i nostri traguardi, poi vi spiegherò rispetto all'ultimo punto perché lo considero già un traguardo. Il primo, dal mio punto di vista, è quello che abbiamo conseguito a quegli O2 Days del 2014, ovvero quando ci siamo resi conto che all'interno della community, che fino ad allora era molto disgregata, mettiamola così, era un momento storico nel quale, per dirne uno, di moduli DDT ne esistevano dieci, di RIBA altrettanti, ci rendevamo conto che non stavamo facendo il bene degli utenti, delle persone che poi effettivamente vedevano in Open ERP all'epoca una soluzione ai loro problemi di gestione dei processi aziendali. E quindi lì, proprio in quella sede, feci un intervento supportato chiaramente da Andrea e tutta un'altra serie di persone che sono alcune ancora qui vecchi come noi, e la proposta fu quella di considerare l'opportunità di metterci insieme per risolvere definitivamente questo problema, nel senso cercare di far convergere tutti questi sforzi e di offrire ai nostri clienti, ai nostri partner una soluzione realmente affidabile. Quindi parto da questo per dire, per me quell'obiettivo lo abbiamo conseguito, noi effettivamente abbiamo tirato su, all'epoca l'associazione non era Andrea il presidente, c'erano altre persone che comunque hanno contribuito pesantemente in questo progetto, in questo processo, però lì veramente si istitui il primo principio di condivisione che negli anni poi è diventato l'asse portante di tutto quello che è stato sviluppato e probabilmente è anche il motivo per cui oggi abbiamo raggiunto questi numeri. Ovviamente questo non poteva che essere portato avanti attraverso un impegno, quindi attraverso lo sviluppo di questi moduli che all'epoca eravamo sulla versione 8, a dire la verità eravamo in una transizione 6-8, per capirci, poi a noi questo fatto dei numeri pari ci è sempre un po' piaciuto, diciamola tutta, quindi diciamo eravamo in quel periodo un po' così, e quindi però sulla versione 8 lì effettivamente cominciamo a fare sul serio, cominciamo a prendere veramente in mano tutti questi moduli, ad analizzarli, a verificare quelli che effettivamente erano un po' più avanti rispetto ad altri, quelli che erano un po' più compliant alla normativa rispetto ad altri, perché poi chiaramente ognuno pubblica il modulo, lo rilascia, ma poi fondamentalmente l'ha fatto per sé, quindi probabilmente in alcuni casi non c'erano stati neanche dei check normativi per capire se quello che si faceva era coerente a quello che doveva essere fatto. Quindi quello ci ha portato, ed è ancora oggi a mio avviso il motivo per cui si è riuscito a costruire questo asset che poi è diventato un patrimonio dell'OCA e che oggi tutti voi avete a disposizione per poter avere un O2 con una localizzazione italiana che copre non il 100%, ok? Però una percentuale enorme rispetto a quello che ci siamo trovati noi qualche anno fa. L'ultimo punto, che per me è un traguardo, lo ritengo, Andrea lo sa, anche dal punto di vista proprio personale, è un traguardo molto importante, è il fatto di essere riusciti a coinvolgere in questo percorso, in questo processo con alti e bassi, non senza difficoltà, anche casa madre. La testimonianza ce l'abbiamo perché oggi, eccoli, abbiamo Paolo, Hermes e Bruno che ci hanno raggiunto. A dire la verità, questo percorso è iniziato molto prima di loro, perché prima di loro ci sono stati da Davide Speranza, che dovrebbe essere qui, ieri ha presentato la sua nuova start-up, poi c'è stato Marco Villari e ora ci sono loro, che hanno ereditato questo bel impegno. Però casa madre effettivamente ha capito che in Italia stavamo facendo sul serio, cioè che ci stavamo impegnando per raggiungere degli obiettivi. Questo ha fatto sì che anche casa madre decidesse di puntare sull'Italia, ovviamente supportata dai numeri, perché ho due casa madre, falso business ovviamente, quindi ha avuto l'evidenza che in Italia ci fosse mercato. Ha avuto l'evidenza che ci fosse una community comunque attiva che supportava, diciamo, in modo importante questo processo e ha deciso di aprire una sede in Italia. Oggi in Italia ci sono 30 persone, diciamo nel giro di meno di un anno sostanzialmente sono arrivati ad essere 30, si occupano di un mercato limitato, diciamo si fanno la parte direct perché per ora si occupano solo di quello, ovviamente non si spingono a, diciamo, ad offrire dei servizi almeno per ora legati a tutte quelle componenti che invece sono più, diciamo, adatte e giuste per noi partner. Quindi per me questo è un traguardo fondamentale perché significa avere, tra virgolette, anche un po' le spalle coperte. Fino ad oggi sappiamo quanto è costato, anche in termini di sforzo di ognuno, soprattutto di quelli più attivi che partecipano attivamente al mantenimento di questi moduli e quindi avere da un certo punto di vista la copertura da casa da madre di una serie di funzioni core, secondo me è un vantaggio enorme che stiamo portando in questo mercato e dobbiamo saperlo sfruttare. Io ora lascio la parola a Pietro che vi illustrerà questo primo segnale, diciamo, questo primo prodotto che abbiamo implementato che risolve uno dei problemi attualmente presenti che riguarda la possibilità di trasmettere, quindi di firmare e trasmettere le fatture elettroniche e la pubblica amministrazione. Quindi lascio la parola a Pietro. Grazie Ross. Ciao a tutti, io sono Pietro e come potete immaginare lavoro con Rosario nel team di Odoo. Prima di entrare nel dettaglio di Unitiva P.A.Sign e di cosa effettivamente fa, mi riaggancio un po' a quello che ha appena detto Rosario e qui possiamo vedere, anche grazie a quello che è stato fatto da Odoo Casamadre, dal team di Bruno e tutti quelli di Odoo che saluto e ringrazio, si sono messi dal momento in cui hanno aperto la sede a Milano, si sono rimboccati le mani che hanno iniziato appunto a lavorare su determinate funzionalità importanti per la localizzazione italiana e in merito infatti vediamo che tante cose le hanno sviluppate, tante le svilupperanno, altre sono appunto in progresso e ce ne sono alcune come appunto la firma digitale per la pubblica amministrazione che diciamo magari faranno in un futuro un po' più lontano. E proprio qui diciamo noi di Unitiva abbiamo deciso di agire e andiamo a andare a colmare insomma questo gap. In merito appunto infatti possiamo vedere che attualmente nella situazione della fatturazione elettronica sulla versione 17 di Odoo, nel momento in cui c'è l'esigenza da parte di appunto un utilizzatore di Odoo di inviare una fattura cliente verso un contatto di tipo pubblica amministrazione, Odoo andrà a generare semplicemente un file XML, quindi non firmato digitalmente che sappiamo essere un requisito fondamentale per poter appunto inviare la fattura a questi tipo di contatti di tipo pubblica amministrazione e in particolare lo Stato infatti va a esplicitare questa richiesta, questa esigenza che richiesta firma utente. Questo appunto è il motivo principale per cui abbiamo deciso di andare a sviluppare quello che è Unitiva P.A.Sign che va effettivamente a integrarsi perfettamente con quello che è il flusso standard di Odoo per l'invio appunto all'agenzia delle entrate della fattura verso questi tipo di contatti, quindi tipo di contatti pubblica amministrazione e va a generare appunto questo file XML di tipo P7M, quindi firmato e diciamo va ad evitare il processo che attualmente tramite la standard dovrebbe effettuarsi tramite appunto creazione della fattura su Odoo, successivamente scaricare questo file XML, uscire effettivamente da Odoo e andare da terze parti insomma per andarlo a firmare digitalmente, successivamente andare sull'agenzia delle entrate e poi appunto inviarlo al cliente di tipo pubblica amministrazione. Noi appunto grazie a Unitiva P.A.Sign andiamo a integrare tutti questi processi all'interno di Odoo senza dover appunto uscire dalla piattaforma. Ovviamente diciamo Unitiva P.A.Sign è disponibile per Enterprise tramite l'utilizzo del codice destinatario di Odoo Casamadre e in particolare diciamo per la community vi è la possibilità di inviare i file firmati P7M tramite l'invio tramite PEC. Diciamo che Unitiva P.A.Sign è a prova di Neonato quindi l'installazione è abbastanza semplice diciamo dopo che appunto ci siamo messi in contatto e vi abbiamo dato la possibilità di installare il modulo vi forniremo una secret key e il servizio sarà meno male già pronto per l'utilizzo e appunto diciamo nel momento in cui il contatto, nel momento in cui si dovrà andare a inviare la fattura verrà identificato come un contatto di tipo pubblica amministrazione quindi con un codice destinatario a 6 cifre automaticamente premendo semplicemente il tasto invia verrà generato in automatico il file XML.p7M proprio diciamo perfettamente compliant con quello che è la richiesta appunto della pubblica amministrazione e quindi tutto all'interno di Odoo senza dover uscire e andare su siti di terzi parti per la firma digitale questo appunto è un video che in teoria dovrebbe partire, ora vediamo se effettivamente parte, chissà in ogni caso vi ringrazio per l'attenzione e questo mi ti va a pesare forse parte, 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 ah è partito, vabbè diciamo di sottofondo, niente di sconvolgente fa semplicemente vedere il flusso in sé e appunto l'invio e la generazione in questo caso di questo P7M dopo aver identificato il cliente come di tipo pubblica amministrazione questo è il processo standard, cioè qui non è cambiato nulla neanche c'è un'indicazione specifica infatti il flag è quello standard di invio all'agenzia delle entrate con fatture elettroniche XML quindi l'unica cosa che fa è che al clic su invia e stampa piuttosto che generare l'XML e allegare solo l'XML fa una chiamata a un servizio, si firma e viene ritornato un file che questa volta invece che essere solo XML è un XML P7M quindi firmato digitalmente a questo punto viene trasmesso direttamente alla pubblica, qua c'è l'evidenza che il file trasmesso è un P7M that's all, siamo stati veloci, rapidi grazie il presidente ci ha mollato il presidente si è andato si è andato Calcagni, fai le veci come? fai le veci solo sulla 17? no, 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 diciamo che 16 e 17 sono le due versioni che supportiamo no, 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 enterprise e community la differenza diciamo nella fase di trasmissione è che con la enterprise chiaramente sfruttando il vantaggio di avere il codice destinatario impostato da diciamo di Oducasamadre facciamo una trasmissione attraverso il servizio di Oducasamadre direttamente all'agenzia delle entrate nel caso invece della versione community usiamo il format standard della PEC diciamo che alleghiamo il P7M però si hanno già iniziato qualcun altro? sta là sopra Marco sì, quando avevamo fatto l'analisi iniziale avevamo pensato alla possibilità di fermare direttamente avevamo detto ma possiamo fare qualcosa di locale con la chiavetta o contattare un partner poi abbiamo visto delle cifre un po' alte e ci siamo arenati abbiamo detto vabbè è un caso che vedremo dopo perché appunto il volume non è grandissimo per il momento la domanda che mi viene è i provider ci chiedevano sempre un contributo a non solo per l'attivazione ma anche a fattura sì, è vero quindi volevo sapere un attimo sì, in effetti i provider che offrono questo tipo di servizi di servizi che sono in particolare quelli legati alla firma non si limitano a venderti il pacchetto di firma ma devi investire per avere dedicati questi servizi per poter fungere da intermediario per la firma e la trasmissione infatti quando Pietro prima faceva riferimento al discorso di mettersi in contatto con noi è perché per attivare questo servizio noi formalmente dobbiamo essere delegati alla firma e alla trasmissione di queste fatture per conto del nostro cliente quindi integrando questo server ovviamente con tutti i livelli di sicurezza necessari che comunica direttamente con Odoo siamo pronti per la seconda vai in realtà in parte mi hai già risposto perché chiedevo ma il cliente deve fare un'azione attiva verso un soggetto terzo che gli dà la firma no, 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 solo con noi ok, quindi voi fate da intermediario anche se la firma poi è c'era qualcuno lì a posto bene, mi sono distratto un attimo ma siamo stati in grado di rispettare i tempi e di sopperire abbiamo fatto lavorare il segretario finalmente facciamo un applauso agli amici di Unitiva grazie per il vostro costante impegno